Perfetto Terrone Diganò che spianata che hanno fatto Non ho capito perché ci sono allontanati da quella la sono i ragazzini eh i ragazzini perroni perroni, tanto che non è andato in ferrovia i risultati vanno a saltare noi ci facevamo sempre lo stupro di non andare nel fratto noi non siamo mai andati nel fratto per non rovinarlo ho capito vedi vai dentro te però adesso fanno tutto l'arcine poi diventerà una vasca intera questa che l'ha dentro? sai che era il ponticello che usciva e travescava il ponticello che passava sotto e andava fuori nella cava attravescava il sede eh sì in teoria quello è lo scolo dell'acqua che va diretto nel sede vedi che c'era l'ho trovato guarda attraversare poi noi insieme ci hanno attraversato cioè non li ha mica visti eh non li ha mica visti non li ha visto l'ultimo momento allora andiamo pronti via guarda attraversato guarda ah se noi andavamo sotto il grattacaccio andavamo già a scogliere guarda 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 Grazie a tutti.